Ho il presentimento che da un momento all'altro persone fanatiche possono togliermi la vita. Chiedo al Signore che al momento opportuno mi dia la forza per difendere i diritti di Cristo e della Chiesa. Morire martire sarebbe una grazia che non merito. Lavare con il sangue sparso per Cristo tutti i miei peccati, difetti e debolezze della mia vita passata sarebbe un dono gratuito del Signore. Sin da adesso perdono e chiedo al Signore la conversione degli autori della mia morte. Ringrazio tutti i miei fedeli che con le loro preghiere e le loro manifestazioni di stima mi hanno animato a dare loro l'ultima testimonianza della mia vita, affinché anche loro siano buoni soldati di Cristo. Spero continuare ad aiutarli dal cielo. Presento che da un momento all'altro persone fanatiche possono togliermi la vita. Pido al Signore che, a momento opportuno, mi dà fortalezza per difendere i diritti di Cristo e della Chiesa. Morire martire sarebbe una grazia che non merito. Lavare con la sangue vertida per Cristo tutti i miei peccati, defecti e debilità di la vita passata sarebbe un don gratuito del Signore. De antemano perdono e pido al Signore la conversione dei autori della mia morte. Agradezco a tutti i miei fedeli che con le loro preghiere e con le loro manifestazioni di apprezzo mi hanno animato a dare loro l'ultimo testimonianza della mia vita, per che loro anche sono buoni soldati di Cristo. Espero seguire aiutandoles desde il cielo.